Bene, sono appena tornato da una visita in cantiere e vediamo come va il prosieguo dei lavori nella piccola abitazione prefabbricata in acciaio. Ora monto il video e poi lo commentiamo insieme. Ho appena finito di montare il video, ora ce lo commentiamo insieme. Andiamo. Oh, questo è l'esterno, lato est. Questo è un particolare dell'interno della struttura che ancora non è tamponata e c'è solo la tamponatura esterna OSB. Questa è tutta l'entelaiatura principale. Qui di nuovo l'esterno con la platea e il porticato. Questo che abbiamo appena visto era l'ingresso del garage. La strisciona nera a terra è la guaina che è stata appena apposta, la guaina a caldo, isolante. Vedete, vedete, è stato tutto tambonato con pannelli OSB. E ora entriamo. Facciamo un breve giro sotto al porticato e entriamo dalla porta finestra. Questa sarà tutto il viaggio del soggiorno. Questa è la parte notte dove verranno le varie stanze. Camere, camere, banchi. Vedete ancora la struttura, anche il soffitto è tutto a vista. I pannelli sono ancora appoggiati a terra. I pannelli... Qui è una breve vista esterna. Questo è il lato ovest con il porticato frontale. Questa praticamente è l'ingresso e la porta finestra. Queste sono le due finestre della camera e del bagno. Vedete, sopra ancora manca tutta la copertura. è stato praticamente solo tamponato con l'OSB e manca tutto il cappotto esterno che verrà posato a breve. E questa è la parte retrostante. Ebbene, abbiamo finito così. Molto bene. Abbiamo fatto un breve tour giusto per aggiornarci su come vanno avanti i lavori. C'è stato un video prima. Questo ho voluto un po' commentarlo. Anche vedere le impressioni che avevo mentre riguardavo il video che ho appena fatto. Bene, vedremo più avanti come progetto nei miei lavori. Ci riaggiorneremo. Magari posterò alcune foto. E ci vediamo a presto. Ciao!